azione vediamo un po come stiamo facendo il test di questo accessorio che aspetta che lo vado a prendere sto registrando direttamente dallo schermo c'è un programmino questo è lato direttamente l'ha andato a pescare dalla logitech come potete vedere non fa frusci effetti fantasmi e robe varie e stavo facendo un video di prova anche con l'audio questo è lato direttamente dalle doppie casse poi qui non c'è neanche tanto foto di luce adesso se accendo la luce vediamo che scherzo fa in teoria sono nell'angolo a destra adesso proviamo la prima pagina di internet su desktop vediamo video di youtube non so tutorial di cam tv ne prendiamo uno a caso vedere come fluisce c'è pure un discorso di doppio programma e vediamo l'audio tutto facciamo un piccolo test non ho fatto l'unboxing perchè non sapevo neanche dove mettere le mani questo è un video un video sentiamo l'audio c'è anche un discorso di come vede tutto lo schermo non devo neanche che lo stoppiamo come vi dicevo non devo neanche stoppare perchè il mouse lo vedete che gira qua tutto qua e direi di fare stop e non so altre prove che possiamo fare come vedete si è tutto fluido sta registrando quello che vedo su desktop non so se apro 6continent io dovrei aprire qui nell'alto l'angolo qua vedete vedere con una certa zoomata che ho fatto prima adesso chiudiamo qui vi posso far vedere al volo adesso già che ci sono un accenno che il 14 abbiamo sbloccato 600 euro già non ho speso 150 e ho speso 650 di crediti vi faccio vedere dalle mie carte che ho comprato 300 euro di moticar che convertirò in buoni amazons prossima sbloccata è al 31 mi sembra andiamo a vedere qua sotto visualizza tutte le mie carte se non sbaglio 014 questo è il 4 di luglio allora eccolo qua no questo ancora no questo no agosto 14 questo è quello che ho sbloccato adesso 14 di maggio quindi sarà dopo 14 maggio dov'è 14 maggio 4 di luglio 4 di luglio un megagiorno c'era il 31 allora devo andare più dietro vediamo un po' 14 al 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12, 26.03 l'uomo 4, è stato una delle prime carte, quanto tempo farò comprate? 11-12, siamo quasi all'inizio, eccole ragazzi, è una delle prime carte che ho comprato quando è che era? Il 21, se vedete qua, tu la cos'è che era? novembre, poi non avevo scritto, 1, 2, 3, 4 carte che ho preso con un rogante qua, e se andiamo a vedere era novembre, dicembre, gennaio, facciamo dicembre direttamente, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sei mesi per l'attivazione, vabbè stoppiamo il video e vediamo com'è un minuto, stoppiamo